Dopo 5 mesi di ricerca è stata trovata a Eos la cagnolina di Vanessa Gatti, l'escursionista di 30 anni travolta e uccisa da una valanga. 7 gennaio in Val Formazza, Piemonte. Anche Roberto Biancon, 53 anni, è morto nell'incidente. Gatti era della provincia di Varese e Biancon dell'Interland milanese. La triste notizia del ritrovamento di Eos, purtroppo morta, è stata comunicata su Facebook da un'amica di Vanessa Gatti, la quale era stata la prima a lanciare un appello sui social per ritrovare la cagnolina. Dopo 5 mesi le ricerche si sono concluse. Eos è stata ritrovata, riposa in pace piccolina insieme alla tua Vane. Grazie a tutti per gli aiuti in questi mesi. Grazie a tutti.